La siesta, si sa, in Spagna è qualcosa di sacro. Il riposino pomeridiano dopo pranzo è più che una tradizione ed è per questo che non sorprende l'apertura a Madrid, nel quartiere d'affari Asca, del primo NEP Bar spagnolo, il Siesta & Go, sulla falsa riga di quelli già inaugurati in Argentina, Belgio o Giappone. Il mio capo ha fatto un viaggio a tocchio e si è accorto che i NEP Bar laggiù sono nella norma, così ha deciso di inaugurarne uno qui. E cosa c'è di più spagnolo della siesta? A disposizione del cliente ci sono camere, letti o sofà da pagare al minuto o all'ora. Il prezzo parte da 3 euro per mezz'ora in un sofà fino a 20 in una camera per tre ore. E' una tradizione spagnola, ma crede sia ancora più una leggenda, perché con lo stile di vita che abbiamo, le ore lavorative, il ritmo, beh, hai molto poco tempo per la siesta, nel mio caso almeno durante la settimana. L'età media dei clienti è tra i 30 e i 45 anni e in genere si tratta di persone che lavorano nel quartiere e si vogliono prendere una pausa dall'ufficio, una meritata pausa.